Allora Pancio, quando ti senti stressato devi fare questo esercizio, devi sollevare le gambe dietro, apri la bocca, così, ok adesso passiamo alla posizione del cobra, giriamo il collo lentamente a sinistra, ora lentamente a destra, di nuovo a sinistra, di nuovo a destra, adesso di nuovo, su, apri la bocca, avanza con le zampe, così, stendi, apri la bocca e giù, bravo.